Sdraieti a terra con le ginocchia verso il petto in modo da far toccare la zona lombare a terra e le braccia verso il soffitto con i pugni belli chiusi. Da questa posizione distendi verso l'alto il braccio destro e verso il basso la gamba sinistra, mantenendo sempre la schiena attaccata a terra durante tutto il movimento. Mantieni questa posizione per il periodo di tempo prestabilito. Fondamentale è la respirazione. Prendi aria dal naso nella posizione iniziale e soffia fuori l'aria dalla bocca mentre distendi il braccio e la gamba.